salve a tutti ragazzi bentornati su farming simulator 22 e oggi vi porto un nuovo test map della ischia farm che è uscita il 26 è una versione beta attenzione quindi è una mappa che non è ancora completa perché manca ancora qualcosina tipo manca qualche produzione manca il traffico i percorsi per gli operai insomma qualche edificio quindi non è una mappa ancora completa comunque sia io ve la segnalo la potete scaricare se andate nel canale youtube di black ice c'è il video dove presentano la loro mappe li troverete il link per scaricarla è soltanto per pc e quindi poi poi dipende da da loro se la mandano alla giants quando uscirà la versione definitiva sarà anche per console allora intanto vediamo subito partiamo dal pda pda della mappa che sostanzialmente diciamo che è simile a quello del 19 sono cambiati un po sono stati rifatti i campi poi le le colture sono quelle standard in più c'è soltanto l'erba medica in più eccola qua e allora si parte da qua questa è la casa dove qua c'è il trigger per per cambiarsi e il triggerino qua per andare a dormire adesso andiamo a vedere la farm eccola qua andiamo entriamo nella nostra farm anche qua ragazzi black ice nel suo video dice che questo questo edificio qua verrà cambiato quindi non è quello definitivo apposta quindi è una beta io aspetterò a iniziare a fare una serie perché insomma voglio aspettare la versione definitiva che quale sicuramente una serie ce la farò ma soltanto quando insomma uscirà la versione definitiva non si sa quando comunque non ha detto niente al riguardo black ice comunque sia di partenza vediamo un po gli attrezzi che cosa cita cita la la trebbia doiz far top liner un fend 3 14 e il john deere 78 10 poi ci abbiamo qua dietro altri attrezzi ci abbiamo un paio di falciatrici poi ci abbiamo a bella lama della trebbia il rimorchio class il un ranghinatore e la pressa della kun poi ci abbiamo un aratro un erpice una seminatrice e una piantatrice eccoli qua poi qua c'è il silos della farm che è quello standard del gioco dove abbiamo ci da qualcosina ad esempio ci abbiamo un po di semi di soia un po di colza un po di frumento e questa è l'officina eccola qua dove possiamo andare a riparare i mezzi o modificarli insomma allora black insomma ha rifatto tutti i campi quindi diciamo che un po è cambiato a livello di campi naturalmente la caratteristica principale il mare eccolo là sotto quindi abbiamo il mare eccolo qui poi a livello di produzioni c'è qualcosina di nuovo e noi alla di partenza che ci abbiamo noi di campi allora ci abbiamo il 41 il 38 il 36 quando iniziamo la carriera ok quindi no 33 32 e 38 si eccoli qua poi ci sono tante ampie come potete vedere ampie zone forestali e partiamo da qua sotto vediamo un po questa è la prima produzione eccola qua che è il caseificio dove qua possiamo andare a fare il il formaggio e c'è anche il punto vendita dove poter vendere il latte qua possiamo comprarla acquista e qua come potete vedere possiamo portare il latte lo zucchero e possiamo fare il burro il formaggio e il cioccolato questa è la la prima produzione che ci troviamo poi qua vicino come potete vedere ci sono già le olive eccole qua poi qua ci abbiamo un il benzinaio e qua ci abbiamo un punto vendita dove qua possiamo andare a vendere la paglia e roba varia e qua c'è il mercante di bestiame dove possiamo venire ad acquistare gli animali poi andiamo più avanti andiamo a vedere cosa cosa abbiamo questa è la nostra casina poi qua sotto ci abbiamo un po che cos'è qua dovrebbe essere la produzione questi sono i vigneti ci sono un paio di vignetini poi diciamo piccolini e poi ci abbiamo questo che un po più grande state pure con un po ripido vedete le salite che ci sono bella a me piacciono così questi vignetini così e qua vicino ci abbiamo la produzione dell'uva lavorazione dell'uva ok dove qua portiamo l'uva ci facciamo quella classica facciamo l'uvetta e il succo d'uva poi ce n'è anche un'altra produzione che adesso andremo a vedere dove possiamo andare a lavorare l'uva e farci l'aceto rosso appena ci arriviamo la vediamo poi andando più avanti qua ci abbiamo il biogas eccolo qua dove qua ci abbiamo due digestori dove possiamo andare a buttare l'insilato eccolo qua e poi qua c'è lo scarico non so se sarà questo aspettate un attimino acqua si si caricano i liquami qua dietro e di là li possiamo scaricare per venderli questo insomma poi ci sono un paio due belle grandi trincee con poi ci ha messo anche un paio di capannetti dove qua possiamo mettere qualche attrezzino che usiamo qua nel biogas e poi qua sempre ci sta il punto vendita dove possiamo andare a vendere se non sbaglio la paglia la legna e il cippato no cippato e paglia come pare il punto vendita eccolo qua poi cosa abbiamo raga poi più avanti ci abbiamo questo qua è la produzione di pellet la trovate proprio qua eccola qua dove ci portiamo il cippato e ci fa il pellet di legno questa è l'altra produzione che abbiamo poi poi qua ci abbiamo lo zuccherificio questo qua è lo zuccherificio dove andiamo a portare le barbabietole da zucchero e in più ci fa anche il compost acquistiamo e ci abbiamo vedete barbabietole da zucchero tritate e canna da zucchero ci facciamo lo zucchero e il compost eccoli qua zucchero e compost che diciamo il compost è lo scarto diciamo della lavorazione dello zucchero e si carica da qui poi il compost eccolo qua c'è pure il cartello qua fuori qua sotto venite e caricate il compost poi poi ci abbiamo qua un altro distributore questo è il negozio lo shop eccolo qui poi ci abbiamo questo qua il supermercato che è un punto vendita eccolo qua dove possiamo vendere insomma vari prodotti poi questo qua è il paesino vedete tutto qua il paesino c'è la chiesa poi qua questo è un altro punto vendita eccolo qua punto vendita poi che ci abbiamo qua eccolo qua questa è l'altra produzione che vi stavo dicendo prima dove qua possiamo venire a scaricare la l'uva possiamo scaricarla ci sono due punti di scarico uno è questo se abbiamo un rimorchio insomma che scarica da dietro oppure possiamo scaricarla da qua se abbiamo un rimorchio che scarica di lato quindi possiamo scaricarla sia di lato che da dietro e andiamo a lavorare l'uva dove ci andiamo a fare poi l'aceto rosso qua ci possiamo fare acquista eccola qua vedete uva e ci fa l'aceto rosso questa è un'altra una produzione nuova e poi qua cosa abbiamo ragazzi questo dovrebbe essere un punto vendita qua questo qua diciamo del del porto no stiamo qua al porto per essere questo un punto vendita ok e poi ok qua sta a posto poi qua invece cosa abbiamo ragazzi qua possiamo poi è compatibile con il dlc platinum expansion quindi qua potete abbiamo questo silos dove possiamo caricare il minerale di ferro e possiamo fare quindi se vogliamo mettere la produzione di metallo il minerale di ferro possiamo caricarlo da qua quindi qua possiamo fare anche tutte le altre produzioni del dlc platinum expansion questo è il frantumatore andiamo a scaricare i sassi e poi cosa c'è da vedere mi manca un po un attimo allora questo l'abbiamo visto questa acqua lavorazione lui l'abbiamo vista ci manca lo zuccherificio pure l'abbiamo visto poi ci abbiamo qua il frantoio quindi qua sopra dove andiamo a andiamo a fare l'olio con con le olive sta proprio qua mezzo qua a questa zona forestale eccolo qua ok e qua possiamo portarci le olive vediamo un po altre cosine vediamo un po cosa possiamo fare quasi se portarci girasoli la corsa e le olive possiamo fare olio di girasole olio di corsa e olio d'oliva poi poi ce l'abbiamo qua sopra questo il biocass l'abbiamo visto la produzione di pellet pure qua sopra ci abbiamo la segheria e la carpenteria quindi eccole qua questa è la classica segheria di default quindi qua andremo a fare naturalmente le assi la segheria e il cippato mentre di qua faremo le altre cose non mi ricordo cosa la carpenteria ma questa super velocità acquista e qua possiamo fare i mobili con la legna e gli assi della segheria insomma eccolo qua e qua poi c'è anche la possibilità qua possiamo usare anche i container quindi come dicevo prima è compatibile col dlc platinum dove se usiamo i container poi possiamo venirli a vendere proprio qua alla segheria e poi nient'altro ragazzi questo è quanto poi qua ragazzi c'è una zona ci sono qualche zona libera dove manca qualcosina black eyes per esempio questa zona qua ci manca una produzione qua ci andrà una produzione in questo spazio libero che manca quindi apposta vi dico che visto che è una versione beta io per il momento voglio aspettare prima di iniziarci una serie perché insomma manca ancora qualcosa manca il traffico manca qualche edificio quindi io la segnalo la potete scaricare però è incompleta insomma e nient'altro ragazzi io più o meno ho fatto vedere un po tutto eccola qua torniamo qua in farm eccoci qua eccoci qua e quindi potete andare la scaricate su se andate sul loro canale youtube c'è il video dove presentano questa mappa lì troverete il link per scaricarla spero insomma fermiamoci qua spero vi sia piaciuto il test map vi invito sempre a iscrivervi al canale lasciare sempre un bel pollicino all'insù vi ringrazio come al solito e ci vediamo alla prossima ciao a tutti